Insegnante cataletta di matematica, Frenzulli Antonia d'Italiano, gentilmente. Facciamo la formazione. Prima C, Caputo Paolo. Comunque, intanto, sono più capito. Com'è Caputo Paolo? Un caporeccio. Ok. Castriotta Alex. Croce Ilari. Ilari. Come dice Ilari? Ilari. Non c'è Ilari. Una bimba. Ah, eccola qua. Dercoli Antonio. Dercoli Antonio. Su che bello, è? È bello oggi, oggi non si fa. Oggi si conosce solo, è bello entrare. È vero che fa caro. Dercoli Antonio, Falcone Antonia. Falcone Antonia. Falcone Daniele Cresca. Falcone Daniele Cresca. Falcone Daniele Cresca. Ok. Fred e Luigi. Anna Tielo, Liliana, quella Samira Pia, la Torre Angelica, Nandella Liboriana, Nosci Michele, Paglione Giorgia, Palombo Umberto, Prinaldi Giovanni, Santoro Anna Pia, Scircoli Francesca, Spano Cristian, Spano Giuseppe, Stallone Adolfo Domenico Pio. Questa è la formazione prima C, accompagnate dall'insegnante Cataleta e Rezzoni. Grazie a tutti. Grazie.